bella raga e oggi parleremo di se penso di essermi incastrato stepbrother e quindi sì ho perso l'anno nat november prima che inizi il video volevo ricordarvi che oggi è niente poco di meno che il black friday che coincide con la data di uscita del realme 7 5g dopo una settimana di utilizzo posso dire che è perfetto cioè per quello che faccio io va benissimo in questi giorni l'ho usato soprattutto per per giocare per guardare film su netflix e se la cavicchia anche nel reparto video come vedete in questo video backstage che mostra come si registra un po quindi se avete bisogno di un cellulare e non avete grandissime pretese il realme 7 5g potrebbe fare al caso vostro lo trovate insieme a tantissimi altri prodotti e accessori targati nel mi tra cui persino il 7 pro nel link che vi lascio in descrizione e anche cominci il video voglio che sappiate che sto usando la televisione come luce principale mi siedo perché con argomenti così scottanti non voglio disturbare il vicinato non a novembre niente noci novembre che tra l'altro ci sono una marca di noci che si chiama jumbo non so se lo sappiate ricevo ogni giorno almeno un direct in cui me lo dicono dubito ci sia qualche mio iscritto che non conosca l'anno al novembre ormai è una cosa è da anni che è sotto il mio canale a novembre ho perso l'anno novembre con questo video cosa ne pensi dell'anno a trover giungo l'anno a trover vuole che uno non si masturbi per un mese intero il mio record sono cinque ho perso l'anno a trover no mi suonano figa aspettate è arrivato un pacco sono al quarto piano io non c'è l'ascensore quindi l'abitudine anche voi fate gemiti quando vi sa di medesimazione diciamo novembre novembre è un mese che sin da piccolo odiavo inizia proprio il freddo quello congelante devi metterti un'ora davanti al termosifone per scaldarti poi mi sono cresciuti pedi ovunque quindi andranno al mese colpito novembre appunto è un mese è sempre stato un mese non troppo bello per me sinceramente non mi è piaciuto mi piace dicembre perché chiudono le scuole chiudono le regioni c'è il natale molto natalizia questa casa sta diventando tutta grigia prometto prometto che per natale raga ci metto delle lucine qualcosa di più carino tornando al discorso novembre è diventato da due o tre anni a questa parte il meme novembre è il meme il meme con la b maiuscola e con b intendo brutto io sono solito non criticare la comicità altrui fame contro te fanno ridere i bambini mi sta bene sono l'ultimo che critica la comicità altrui se c'è qualcuno che ride per colorado che fine ha fatto buzz raga lo riccio con ve lo giuro se c'è una cosa che non ho mai capito è il meme della non at november io capisco diventare vegetariani diventare vegani capisco diventare gay come capisco tutte le altre malattie scherzo comprendo le scelte altrui le stimo io stimo un sacco le persone che fanno delle scelte dato che io non le so fare a 25 anni ancora rimango mezz'ora davanti alla scelta dello starter dei pokemon quindi io stimo un sacco chi riesce a fare una scelta di questo tipo e portarla avanti ma l'anno natto november raga l'anno 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 natto cosa ti porta a non masturbarti per un mese benefici o delle benefiche colorado non era poi tanto male mi sa dividiamo l'anno natto november in due parti la prima è la parte meme su tiktok raga su tiktok non che io frequenti tiktok e non vado mica su quei siti per vedere le ragazzine scollate che fanno i balletti e molti commenti sono appunto persa l'anno natto november instagram youtube adesso vi dirò una cosa che farà un po scalpore questo meme non fa più ridere come me sto diventando boomer mi sto lamentando dei meme ma siamo seri facciamo così mettete dislike se leggere i meme sulla non altro membre vi fa ridere e like se non vi fa ridere ma ricordate anche che se raggiungiamo i 50.000 like uno di voi verrà preso e picchiato a sangue preferirei di gran lunga vedere gente che scrive osbo che qualcosa per far ridere deve essere inaspettato il primo novembre è ovvio che mi aspetti un meme sulla non altro membre e il meme l'abbiamo destrutturato il meme lo lasciando a parte ora passiamo alla parte concreta alla challenge in sé vi ricordate il video sulla bluway questa questa challenge se sentiva l'odore nessuno la faceva però se sentiva l'odore della challenge la non altro membre è più o meno uguale nel senso il meme lo conoscono tutti ma realisticamente parlando chi è che porta avanti la challenge che portasse dei benefici no hanno scoperto che se ti masturbi si rimpicciolisce potrei capire i miei 12 centimetri a questo ma in fin dei conti non c'è nulla di male cioè nel senso non è una cosa sbagliata non è neanche una challenge con se stessi nel senso io non so voi però adesso a parte gli scherzi meme a parte secondo me ci sono stati periodi in cui non mi sono masturbato per un mese ma è impossibile però parliamoci chiaro raga è una cosa fattibile certo magari aumentano le polluzioni notturne una volta mi era capitato 12 anni 13 anni e sono andato a dormire nel lettore di mamma mi ricordo che la mattina mi sono svegliato con una chiazza così sì mamma arrivo a fare colazione sì sì arrivo sì quindi alla domanda che molti mi fanno da ormai tre anni no non faccio e non farò mai se non per un video sarebbe un video tipo stile marcello ascani non mi masturbo per 30 giorni ce lo vedo marcello ascani ho provato le seghe intermittenti non so se faccia bene però un consiglio che ricevete da da mio vecchio amico praticamente quando state arrivando al momento lo stringete fortissimo così non esce nulla questo si chiama dolore ok capito i girl di merda che si taglia e soffre questo è dolore anche sto esagerando forse molte cose forse meglio se le taglia quindi tornando alla domanda che migliaia mi fanno cosa ne penso rispondo a un meme morente con un altro meme morente è una cagata pazzesca poi in 30 giorni puoi fare tantissime cose puoi imparare uno strumento musicale diventare un ornitologo nonat non mi masturbo guarda mamma sono in tv perché non mi sono masturbato per 30 giorni tu perché so che c'è qualcuno che la sta facendo tu guardami negli occhi e tocca ops scherzo in realtà ho pianto e non è un meme questo non è un meme piango ogni giorno mi sento voglio mamma grazie a tutti